Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino, fare attenzione sul tratto appenninico per nebbia a banchi segnalata tra Aglio e Rioveggio. Sulla FIPILI rallentamenti per un veicolo in avaria tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla regionale 429 di Valdelsa, restringimento di carreggiata dal chilometro 44 e 500 al chilometro 44 e 600. Ricordiamo l'obbligo di catene a bordo su autostrade e strade a lunga percorrenza. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!